Con la Nazionale non è stato così come volevo, ma è stata sempre un'esperienza bella. Penso che la mia Nazionale è una Nazionale che viene in assenso e questo è importante perché sono dei ragazzi che vogliono diventare giocatori forti e hanno le qualità e le condizioni per farlo, quindi speriamo che un futuro diventino così. Sì, adesso siamo qui, abbiamo perso la prima in casa ma abbiamo subito reagito per bene, siamo arrivati qui e abbiamo preso i tre punti che avevamo bisogno per continuare sulla classifica. Adesso pensiamo subito alla prossima partita che è subito mercoledì in Copitalia e speriamo di andare bene. Quindi la Nazionale non è andata come volevo, ma alla fine è una bella esperienza. Qua siamo sempre sulla giusta strada. La Tinea Coriace nel primo set ha sfruttato il vostro piccolo blackout, poi una lue più concentrata ha avuto la meglio. La tua analisi rapida sulla partita di stasera? Dobbiamo essere sempre concentrati, dobbiamo continuare a lavorare su questo. Penso che abbiamo fatto bene, loro hanno fatto anche bene, hanno battuto bene, hanno saputo sfruttare bene le occasioni e i turni in battuta di loro erano forti in quel momento, quindi speriamo di continuare a lavorare su quei turni di battuta forti per uscire dalla prima e niente, si lavora sempre.